Chiamo sempre sul podio il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, anche lui con un messaggio chiave per noi. Grazie. Sì, grazie a tutti. Saluto naturalmente anche io i colleghi del Consiglio dei Ministri, tutte le autorità presenti, i convenuti. Ringrazio il Ministro Musumeci per avermi dato anche l'opportunità di portare un saluto, diciamo come tra virgolette padrone di casa, naturalmente il sindaco per primo come senatore eletto in questa regione. Tengo a ricordare che questo convegno parte da una parola importante che è la parola mare abbinata alla parola risorsa. E' quello che facciamo oggi qui ad empiere un obbligo diciamo di carattere politico e programmatico che avevamo assunto in campagna elettorale. Cioè quello, aveva detto la Presidente Meloni, di dare risalto alla risorsa mare perché la nascita del Ministero del Mare risponde esattamente a questo impegno, ne parlare chiaramente meglio di me e più di me, il Ministro Musumeci. La domanda che ci siamo fatti in quei mesi di campagna elettorale, ci siamo fatti per tanti anni, è come è possibile che l'Italia ignori, sottovaluti o non utilizzi al massimo questa straordinaria risorsa che è appunto il mare. Perché l'Italia è definita dai suoi mari, l'Italia è definita dal mare che la circonda, non solo dal punto di vista morfologico che va da sé, ma anche dal punto di vista della politica estera, della politica interna. Cioè il mare ne fa una struttura geopolitica lanciata nel Mediterraneo, il mare significa tantissime cose. Il sindaco ha ricordato la canteristica, i porti, ma il mare è anche l'ambiente, il turismo, l'energia, la pesca, l'imitazione, l'elenco potrebbe essere davvero infinito. Quindi l'Italia, il governo italiano si pone come obiettivo rilanciare la nostra presenza politica attraverso il mare e con il mare come risorsa praticamente infinita da sfruttare. La scelta di Trieste non è stata casuale, è stata quasi automatica. Il ministro Musumeci in Consiglio dei Ministri, parliamo a margine del Consiglio dei Ministri e a soli telefono chiamò il sindaco, Trieste era come dire la città naturalmente vocata a un convegno come questo per partire da Trieste perché per dare merito a quello che ha fatto l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale, l'ente del porto di Trieste che è riuscita con il porto, attraverso il porto, a rilanciare se stesso, naturalmente che il porto di Trieste è in grande crescita, a rilanciare una città, a rilanciare una regione. Si parla del Friuli Venezia Giulia di Trieste come punto di congiunzione tra est e ovest ma è anche punto di congiunzione tra i mercati che rigono dal sud e dell'Europa centrale. Quindi è stato davvero lungimirante l'idea di fare del porto un grande volano di crescita per tutta l'economia, anche per l'economia di questa regione che un po' con fatica ha capito che il porto, il porto Franco, la zona logistica speciale era una opportunità gigantesca per tutta la regione. Concludo rubando una battuta del presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia che dice che noi facciamo pezzi di nave in mezzo ai campi di pannocchie perché un po' è questo, il porto alla fine estende la sua filiera fino a tutto il Friuli e naturalmente anche molto di più. Io mi fermo qui, è stato per me un grande piacere, un grande onore portare i saluti di questa regione in cui naturalmente sono cittadino orgoglioso ma siccome gli interventi sono tanti mi fermo qui e ringrazio ancora una volta per l'opportunità.